Il tuo nemico non è il problema, ma è che non conosci il problema. Ti faccio un esempio preso dal webinar Tutta la verità sullo stress che abbiamo fatto di recente con oltre 600 persone collegate. L'esempio che è emerso all'inizio del webinar è stato che ci sono molte persone che dicono lo stress mi uccide, lo stress mi sta uccidendo, lo stress mi ha portato a quella malattia, lo stress è il problema, ma finché ti limiti, ti fermi a individuare il nemico, insultarlo, disprezzarlo, attribuire tutte le colpe delle tue disgrazie, stai risolvendo oppure la situazione sta peggiorando, quantomeno sta rimanendo uguale. Quindi il vero nemico non è il problema, ma è che non conosci il problema, perché se conoscessi il problema, ad esempio lo stress, capiresti che lo stress non è una malattia, non è un essere vivente che ti uccide, ma cosa fai con lo stress? Quindi conoscendo il problema sapresti ad esempio quali sono le fonti di stress. Nel webinar abbiamo visto quali sono le fonti latenti, cioè quelle invisibili, che spesso sottovalutiamo, ignoriamo e cosa si può fare proprio per gestire, che è sotto il nostro controllo, quel tipo di fonti di stress. E se non hai visto il webinar Tutta la verità sullo stress, oppure se non l'hai visto fino alla fine e vuoi scoprire quali sono le fonti di stress invisibili, quelle latenti, come fare per gestirle e qual è la tecnica principale per gestire lo stress, che abbiamo visto e provato insieme ai partecipanti nella parte finale del webinar, allora vai sul sito felicementestressati.com perché troverai la registrazione dell'intero webinar, che potrai vedere, mandare avanti, vedere i punti e sotto al video della registrazione del webinar trovi un'offerta, una promozione per ben due videocorsi. Il videocorso Felicemente Stressati, che è un videocorso che tratta la gestione dello stress con tante tecniche sulla respirazione, strategie sull'alimentazione e sul dialogo interiore e puoi acquistare insieme a Felicemente Stressati anche il corso, il videocorso Risorse Interiori, che è un videocorso che tratta la gestione dei pensieri e dei problemi, quindi puoi acquistare singolarmente Felicemente Stressati in promozione oppure insieme a Risorse Interiori, questa promozione scade il 5 luglio alle 23.59, quindi vai sul sito felicementestressati.com, trovi la registrazione del webinar e due videocorsi in promozione. Saluti ridenti!